Siete sicuri di conoscere tutte le funzioni di questo DJI Mini 4 Pro? Allacciate le cinture perché oggi andremo a vedere come realizzare delle riprese particolari sfruttando la funzione Cruise Control e quindi vai con la sigla! Benvenuti, bentornati nel canale, io sono David e ho con me il Mini 4 Pro. Beh, se anche te hai un drone come questo, questo video potrà esserti molto utile perché insieme andremo a vedere come fare una ripresa, qua alle mie spalle ho un posto, una zona particolare da riprendere con una funzione che ha questo Mini 4 Pro e che magari non conosci. Se ancora non sei iscritto ti invito a iscriverti al canale, attivare la campanellina e lasciarmi un like se il video ti è piaciuto. DJI sui nuovi droni come questo Mini 4 Pro, come Air 3, come Mavic 3 ha introdotto una funzione che si chiama Cruise Control che ci consente di impostare una rotta a una velocità che decidiamo noi. è molto semplice, è la stessa tipologia di Cruise che possiamo avere con un'automobile. E a cosa serve questa funzione? Beh, lo scopriremo insieme perché andremo a fare una ripresa proprio sfruttando questa funzione particolare. Quindi montiamo su il radiocomando il mio iPhone, utilizzeremo questo RCN2 e vedremo insieme come fare a sfruttare al meglio questa funzione. Siamo già all'interno dell'applicazione, voleremo con l'ultima DJI Fly rilasciata, la 1.13.0 e lo faremo, andiamo a vedere se si sto registrando, e lo faremo sfruttando questa funzione. Come ho detto è un qualcosa di nuovo sui droni della serie Mini perché sul Mini 3 questa funzione non è presente e è un qualcosa di molto molto utile, molto interessante se dobbiamo andare a fare delle riprese un po' particolari. Ok, per abilitarla, intanto mi compare un messaggio della memoria, purtroppo ho la memoria piena, quindi registreremo soltanto il video. Per attivarla dobbiamo andare in comandi, quindi prima di tutto però vado a impostare un'altitudine di RTH congrua con la zona dove mi trovo. Anzi, un'altitudine, vedete, l'altitudine massima è questa e l'altitudine RTH la mettiamo a 60 metri, ok. Bene, siamo già pronti, quindi andiamo su comandi e andiamo a impostare il tasto funzione. Quindi io dirò al drone cosa deve fare se premo questo tasto qua. Vedete, posso decidere di mettere pianifica volo Y-Point, cruise control, nessuno, eccetera. Noi lasciamo cruise control premendolo una volta naturalmente. Mentre se lo premiamo due volte abbiamo la possibilità di avere altre funzioni, però noi lasciamo ricentra, mi piace di più. Quindi ho impostato il tasto funzione sul radiocomando, questo tasto qua, e ho detto al drone cosa deve fare se lo premo una volta oppure se lo premo due volte. Ok, andiamo adesso a decollare. Siamo pronti, farò un decollo dalla mano perché la superficie a terra non è regolare, perché non mi piace decollare dal tettuccio dell'auto, ok. Ok, perché ho impostato 60 metri perché ho questo cavo qua che vedete proprio sopra di me. Allora lo mando un po' avanti, il test naturalmente viene condotto a vista, ho controllato che nella zona non ci sono particolari restrizioni al volo. E andrò a concentrarmi su un'area, su questa zona qua, che vedete qua, che andrò a riprendere con questa funzione cruise control. Ok, ok. Allora, in cosa consiste questa funzione? Consiste nella possibilità di andare a bloccare una determinata rotta e anche una determinata velocità. Quando io vado a fare delle riprese, beh, posso ad esempio andare a inseguire un soggetto in movimento, come nel caso specifico quest'auto bianca qua in fondo, lo posso fare manualmente in questo modo, però non mi consente il radiocomando di avere da solo una precisione sui comandi, una buona precisione sui comandi, mentre se utilizzo questa funzione io riesco indubbiamente a fare di meglio. Vediamo un po'. Proviamo a impostare con cruise control una rotta e una velocità. Vediamo un po' come sono bravo a fare una ripresa su questa strada, su questo tornante qua su che sale e poi scende. Quindi, vedete, io voglio iniziare a fare un lateral e poi premo il tasto funzione. Guardate il drone. Ho fatto una prova, funziona tutto correttamente e adesso voglio andare a fare sul serio. Quindi farò un lateral, però un lateral che, diciamo, sarà un lateral un po' più complesso. Il drone dovrà anche scendere un po' di vuota perché il terreno qua va a scendere. Quindi proviamo adesso a fare una rotta, mentre il drone è in discesa anche. Vediamo se riesco, se sono bravo con gli stick. Ecco, proviamo così. Veicolo in cruise control. Una volta attivato, una volta attivato il cruise, adesso guardate ragazzi, non sto toccando niente. Il drone sta seguendo questo tragitto. Io posso anche, vedete, anche ruotare e andare a aprire verso la strada qua giù in basso. Il drone è là, lo vedo chiaramente, però ho, diciamo, una precisione maggiore sui comandi per andare a inquadrare un po' tutta la zona. Ecco qua la funzione cruise control, a cosa può servire. Stoppiamola adesso. Proviamo a fare la stessa cosa. Magari stiamo un pochino più distanti, in questo modo. Aspettiamo anche che passi un'auto, così almeno riusciamo magari meglio anche a capire l'obiettivo, cioè il funzionamento, quando può essere utilizzata, quando può essere utile utilizzare questa funzione. Vedete, sta passando un veicolo, quindi vado sul lateral, salgo un po' con lo stick e premo il tasto funzione. Adesso sono in cruise, guardate come riesco io adesso a controllare bene i movimenti. I movimenti, posso dire al drone di andare indietro e posso seguire perfettamente il percorso dell'auto in maniera molto molto più facile, cosa che non sarei stato in grado di fare senza questa funzione. Adesso l'ho persa, però riesco a recuperarla facilmente. E il drone sta continuando la rotta anche senza il mio controllo sugli stick. Guardate, è fantastico. È una funzione che per fare delle riprese di un certo livello, beh, ci può veramente venire incontro. Riproviamo l'ultima volta. In questo caso voglio andare a, invece di fare un lateral, andare dritto. Quindi premo con lo stick di destra tutto in avanti, premo il tasto funzione e, vediamo se riesco, e lui ha impostato, guardate, la rotta e lui sta seguendo in maniera molto semplice l'auto. Io posso anche abbassarmi, alzarmi, ruotare e mi consente in questo modo di avere una facilitazione proprio sui comandi, su questa ripresa che indubbiamente può essere un po' più precisa rispetto a un drone che non ha questa funzione. Guardate la facilità con cui io tengo la rotta, semplicemente andando a agire sullo stick di sinistra. Tengo perfettamente la rotta sull'ultracciato stradale. Ok, a questo punto il drone è abbastanza distante. Io torno indietro, sì, torno indietro, e atterriamo per fare le ultime conclusioni, ma prima voglio parlarvi di un'altra cosa, di un altro ambito di applicazione di questa funzione. Andiamo su impostazioni dei comandi, quindi regola, guadagno e disposizione. Vado ad agire sulla velocità massima, orizzontale, metto la velocità minima, un metro al secondo. Guardate se io mando tutto lo stick a destra, in questo modo, il drone va pianissimo. Ok, quindi una volta impostata la velocità al minimo, vado sulle impostazioni della fotocamera. Quindi vado qua, vado su scatto a tempo, ok, e vado a impostarmi uno scatto a tempo per fare un bel hyperlapse, come ad esempio potrebbe essere un 3 secondi, ok. Quindi una volta impostato tutto quanto, io cosa faccio? Vado ad esempio a decidere in quale direzione dovrà muoversi il drone, ad esempio sul lato destro, sul lato destro, ok, quindi sullo stick di destra mi sposto sul lato destro, premo il tasto funzione, il drone imposta la modalità cruise, e io vado semplicemente ad agire sullo scatto fotografico, e in questo modo riesco a realizzare degli hyperlapse in movimento, come ad esempio quello che vediamo. Beh, fantastico, veramente fantastico. Ecco, queste funzioni ci facilitano durante queste azioni. Se abbiamo da fare un lavoro, vogliamo portare a casa delle cose, delle riprese veramente, veramente fluide, veramente belle, questa funzione è molto, molto utile. Ok, siamo arrivati. Rimposto, la velocità normale, ok, e a questo punto finiamo. Alcune considerazioni. Questa funzione cruise control può essere anche molto pericolosa, perché il drone seguendo una traiettoria senza i nostri comandi, può essere pericolosa da usare. Sì, lui ha i sensori omnidirezionali, però comunque non è consigliato fidarsi completamente ciecamente di queste funzioni. Quindi se la utilizzerai, beh, io ti consiglio di avere sempre un'attenzione in più, un'attenzione particolare durante appunto questa missione che andrai a fare. Queste funzioni automatiche sono veramente, veramente utili, vanno utilizzate con responsabilità e soprattutto in sicurezza. Dobbiamo controllare bene la zona dove ci troviamo, vedere gli ostacoli che ci sono e capire bene quello che stiamo facendo. Quindi volate sempre con la testa, ragazzi. Fatemi sapere se la conoscevate già, se la utilizzavate già con i vostri droni DJI, questa funzione, se vi sembra anche interessante. Beh, vi aspetto qua sotto in un commento e ci vediamo sicuramente con nuovi video qui nel canale di droni e tecnologia di vario tipo. Beh, dalla Toscana da una giornata fantastica è tutto e alla prossima. Ciao!